Musica La curva di Mennea, perfetta La curva di Mennea è una grande rimonta a Pietro Mennearo Una data del 11 settembre è una data memorabile in quanto Pietro Mennea in quell'occasione fece non solo il record del mondo su 200 metri ma stabilì uno dei record più longevi nel mondo dell'atletica Sicuramente per ricordare un grandissimo uomo dello sport, dello sport italiano tutto il mondo sportivo universitario torinese si è voluto schierare in tutti i suoi frangenti utilizzando tutte le sue eccellenze perché oggi si festeggiava non solo l'uomo ma davvero lo sport italiano nei valori e in quello che può essere utile a un giorno e per il domani Mennea è stato un grandissimo campione e direi che oltre ai risultati che ha ottenuto l'insegnamento più importante penso che sia aver dimostrato che con l'impegno si possono raggiungere traguardi incredibili Musica La prima cosa che le viene in mente se dico Pietro Mennea Ma io ricordo in modo impressionante la vittoria che fece all'Olimpiade di Mosca quando ormai sembrava che avesse perso e invece con un guizzo straordinario riuscì a vincere la medaglia d'oro Un esempio per i giovani che vogliono incominciare a correre e a vincere La sua voglia di vincere sempre anche nell'allenamento L'amore per questo sport Una persona dalla quale imparare qualcosa La leggenda dei 200 Atletica Atletica Velocissimo E' stato il mio portabandiere all'Olimpiade di Seul Era contestatissimo ma per la fine è stato accettato da tutti e prima di entrare in campo per fare la sfilata di apertura tutti gli sport e tutti i partecipanti urlavano Pietro Pietro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti